Il lavoro in agricoltura alla luce degli ultimi sviluppi normativi e di contratto è il tema del convegno organizzato da Confagricoltura Salerno che si è svolto ieri negli uffici di Confagricoltura Battipaglia in via Brodolini. L'incontro è stato promosso grazie al contributo dell'ente bilaterale agricolo territoriale di Confagricoltura Salerno e in collaborazione con l'ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Salerno e l'ispettorato territoriale del lavoro di Salerno. Si parla di queste novità per gli imprenditori, contrattualistiche e non? Allora, questo di stasera è il primo di alcuni convegni che stiamo organizzando che riguardano un po' le problematiche nel mondo del lavoro in agricoltura. In qualità di presidente di Confagricoltura è il nostro impegno tutelare i nostri associati, i nostri imprenditori e quindi cerchiamo con questi incontri che stiamo organizzando di dare delle spiegazioni maggiori nell'ambito lavorativo delle nostre imprese in modo da evitare chiaramente di commettere degli errori che poi si possono anche pagare. Il mondo della manodopera agricola è un mondo molto complicato, quindi noi cominceremo questa serata affrontando due questioni. Una è la tracciabilità dei pagamenti in agricoltura e l'altra invece riguarda il nuovo contratto di lavoro. Ci stiamo già preparando su altre problematiche che stanno venendo fuori, tipo la problematica che riguarda il reddito di cittadinanza, la possibilità di assumere in agricoltura anche chi usufrisce del reddito di cittadinanza, le norme sul caporalato, per la lotta al caporalato. Cioè ci sono vari aspetti, tanti aspetti in agricoltura che noi con questi convegni, con questi incontri vorremmo cercare di rendere quanto più chiari possibili. Il contratto provinciale di lavoro è stato un parto a lungo e difficile, questa volta come diceva infatti il dottore Zinno, proprio perché se da una parte abbiamo la legge 199 sul caporalato, dall'altra con la possibilità di modulare uno strumento così importante come il contratto provinciale di lavoro, abbiamo cercato di far sì che sia il più possibile rispondente alle esigenze delle aziende agricole della provincia di Salerno, che sappiamo essere molteplici, variegate e molto strutturate. Quindi sapete che si sa che l'agricoltura della provincia di Salerno abbraccia praticamente tutti i tipi di agricoltura, tutti i settori, per cui ha bisogno di un'attenzione particolare da parte del contratto provinciale di lavoro. L'intento forte, quello che ci siamo prefissi nel momento in cui con i colleghi delle organizzazioni sindacali abbiamo stipulato questo contratto, è quello di cercare di far sì che il divario che esiste fra il salario di piazza e il salario tabellare fosse il più corto e il più stretto possibile. Crediamo di aver imboccato una strada giusta perché dalle prime rispondenze di partecipazione abbiamo avuto un buon riscontro. Con il convegno di questa sera intendiamo divulgare ancora di più perché riteniamo che possa essere un ottimo strumento per le aziende agricole per far sì che domande e offerte si incontrino nella maniera giusta. Domande e offerte di lavoro.